Allora ragazzi, ora noi siamo arrivati dal corso da quasi mezz'ora e avevo incontrato un altro mio amico, questo qui è molto intelligente che come ha mangiato uno yogurt e si è spoccato e con me l'ha spinto e guardate la sua... Poi mi sono lavata e mi sembra che... Poi ci sono serati in questa bella fontanella Lì c'è la cattedra di Termoli Sì, lì c'è la cattedra di Termoli, perché Termoli si trova in Molise Ed esiste! Iscrivetevi, almeno ci dà il 50% a testa Ah, stai zitto! Non è vero, non ci fate caso Ti do i soldi, cioè ti do la droga, posso fare i soldi, ok va benissimo La droga, oh! E i soldi dai! Se no poi la droga come la vende? Eh, tu... Aspetta, niente, niente Puzza ancora di Nutella! Ok, lì puzza ancora di Nutella E... Vi terrò informati su delle cose che un po' faremo, vero? Andate a vedere il video Un giro su Bruclomeno Che cos'è? Lui è down, quello lì con la maglia blu Qui guardate c'è uno spreco di acqua che legge E se vi iscrivete vi farò scopare mia sorella Ma io non ho una sorella Tut, tut, tut... E neanche capo Ok Ok Per colpa di Dromoli Dovevi farmo E ora? La princesa sta morando Eh, vedi? Vedi, vedi, vedi Ci vuole manisi umano schifo No Sposta Ci vuole calma Cioè ma cos'è questa violenza? Venico, vedi con, faccio limai Come, vedi casa 01 se non esiste Eh, andate mi possa? Vieni, faccio limai Se non esiste neanche tu esisti Quindi li possiamo menare Non senti dolore Vai così vai Lui sarà il futuro Lui sarà il futuro Jackie Chan Noi siamo in Abruzzo Ma no ma cosa capita Il Jackie Chan dei poveri Allora Vabbè vi trovi informati Ciao